Che cosa è successo? Stamattina quando siamo venute ad aprire abbiamo provato a schiavare l'allarme e ha scattato. E niente, quando siamo entrate ci siamo accorte che era tutto allo sbaraglio, era tutto aperto. Quindi c'è stata una rapina. Che cosa hanno portato via? Tutto quello che c'era da portare via, grattevinci, sigarette, soldi. Ancora non c'è una stima di quanto hanno rubato? No, quello ancora non lo sappiamo. Da dove sono entrati? Sono entrati dal terrazzino laterale. Avete avuto paura chiaramente stamattina quando siete entrate? Beh abbastanza, anche perché siamo entrate abbiamo visto subito l'allarme per terra e tutti i sensori e la porta finestra aperta. Quindi un attimo ci siamo spaventate, siamo riuscite subito. Le videocamere di sorveglianza ci sono e adesso sono ad analizzare. Grazie. Grazie. Grazie.